Chi dice che per me è più facile, gli rispondo che qualche dubbio me lo pongo, perché da me si chiederà molto di più. Però sono pronto a correre e dimostrare che anche se si ha un cognome pesante, si può veramente portare avanti tante cose e fare tanti progetti. Scusa, scusa. L'aspettiamo lì? Siamo lì? I obiettivi ce ne sono tanti. Uno fra tutti ho girato.